benvenuto in un nuovo video quest'oggi andiamo a vedere tutto l'ecosistema di wabi global uno fra i più grossi exchange in circolazione il suo token ht e tutte le operazioni necessarie per accedere alla defy su eco chain lo scopriamo insieme dopo la sigla benvenuto benvenuta nel canale marchese cripto dove si parla solo pane al pane e vino a vino tutto quello che vedrà in questo video non solo consigli finanziari sono solo opinioni personali e in più se non si è registrato iscriviti al canale attivando la campanella così non ti perderai nessun video se questi video vi piacciono cortesemente mettimi un like qua sotto prima inizia andiamo subito a vedere sul coin market cap dove si trova wabi global in questo momento al settimo posto per gli scambi questo a questo dato indica non solo il volume di scambio anche perché se andassi a vedere il volume sarebbe saldamente al terzo posto quindi subito sotto coinbase ma va a valutare tutto quindi l'affidabilità la sicurezza che il volume di scambio siano legittimo e via dicendo su questa classifica si trova al settimo posto l'exchange che è nato nel 2013 quindi parliamo di un exchange storico che sta sul mercato da tantissimo tempo ora in questa speciale classifica attualmente si trova al settimo posto è sempre stato intorno al secondo posto quindi che se la giocava con coinbase ma semplicemente visto il ban della cina wabi aveva tantissimi clienti cinesi e quindi questo ha fatto sì che ne risentisse un pochino il volume ma ad ogni modo parliamo sempre di un exchange eccezionale questo invece è il suo token il wabi token ht al momento di questo video il token wabi token che è il token proprietario di questa piattaforma si trova a 7 dollari e 20 con una capitalizzazione di mercato di un miliardo 182 milioni di dollari questo token ht ha tantissime funzioni come ad esempio è utile per la scontistica delle fee direttamente sull'exchange piuttosto che è fondamentale per la eco chain ossia tramite token ht è possibile pagare i gas ossia le fee di transazione sulla eco chain lo stesso token conferisce poteri di governance è un token davvero utile per fartela semplice sicuramente conoscerai il bnb il token di binance il token di wabi è esattamente la stessa identica cosa se non altro molto molto simile ossia il token ha le stesse funzioni rispetto a quello di binance sia per quanto concerne l'exchange sia per quanto riguarda la parte dei fai finanza decentralizzata la eco chain è i tiri un virtual machine compatibile infatti il tuo indirizzo sarà lo stesso di itirium come un po avviene su bana smart chain e per altre block chain quale esempio poli con quale esempio phantom quindi in modo molto semplice è possibile operare con il proprio wallet di metamask inserendo questi dati per poter accedere alla eco chain per fare questo in maniera molto semplice basta semplicemente andare su impostazioni su reti aggiungirete ed inserire i dati che vediamo qua sopra ossia quindi come numerete mettiamo eco senza mettere mainnet non è importante qui andiamo a copiare questo come c'è in d128 come simbolo ht e come url qui lo andiamo ad inserire una volta inseriti tutti i dati semplicemente cliccando su salva si avrà accesso alla eco chain tramite questo tastino infatti è molto semplice passare da una block chain ad un'altra una volta comprare tutti i passaggi come detto per accedere alla eco chain è necessario avere dentro il wallet degli ht e questi wabi token per ottenere questi wabi token ci sono diversi bridge alcuni anche da balance smart chain ma il modo più semplice naturalmente è quello di acquistarli direttamente sull'exchange di wabi e di inviarli direttamente nel proprio wallet per fare questa operazione in maniera molto semplice basta andare su spot trading cliccando su exchange cercare la coppia ht usdt a questo punto è possibile effettuare l'ordine e comprare questi ht è possibile effettuare l'ordine in maniera molto semplice quindi con il limit order dove voi impostate direttamente il prezzo piuttosto che market quindi comprare direttamente a mercato piuttosto che anche le operazioni leggermente più avanzate come lo stop limit e il trigger order magari un po più adatti ai trader dopo aver acquistato questi token ht semplicemente andando sotto la voce balance sotto exchange account sarà possibile effettuare sia il prelievo che eventualmente il deposito per effettuare il prelievo di questi ht andare sotto la voce ht cliccare sotto withdraw a questo punto selezionare eco quindi come network e in questo campo invece andare ad inserire il proprio indirizzo del wallet quindi semplicemente cliccando qui facendo tasto destro e mettendo in colla in questo campo withdrawal amount semplicemente cliccando su all se si vogliono andare a prelevare tutti gli ht piuttosto che eventualmente mettere il numero che si vuole andare a prelevare semplicemente cliccando su withdraw entro pochissimi minuti li riceverai all'interno del tuo indirizzo di metamask il sito dei fai per eccellenza sulla eco chain e mdex su mdex ci sono diverse pool sono diversi swap e c'è anche il bridge mdex è presente oltre che su eco chain anche su bana smart chain e sui firium naturalmente trovare cose interessanti su eco piuttosto che su bana smart chain piuttosto che sui dirium naturalmente sono variabili solitamente è buona norma averle tutte queste block chain perché perché si possono trovare dei token piuttosto che delle pool più vantaggiose in base alle esigenze di ognuno di noi che sappiamo benissimo che sono variabili e quindi talvolta è più conveniente utilizzare la eco chain piuttosto che un sito piuttosto che bana smart chain e così via ci sono naturalmente infinite possibilità naturalmente ci sono tanti e tanti altri siti con il quale è possibile interagire con la eco chain fra tutti ad esempio auto farm qui basta semplicemente andare sotto eco e connettere il proprio wallet per iniziare a fare le operazioni sotto la eco chain per quanto concerne l'exchange oltre a fare tantissime attività come ad esempio tantissimi bonus piuttosto che del trading ad esempio in questo momento si possono guagnare fino a 500 milioni di shib effettuando alcune operazioni quindi oltre a queste chicche c'è anche la possibilità di partecipare ad alcune aie o ossia dei lanci di cripto da su exchange non è che ce ne siano tantissimi su hobby non è una piattaforma specializzata in lanci di nuova cripto valuta ma quelli che ci sono stati finora sono stati molto interessanti per gli amanti del trading bot ossia del trading automatizzato semplicemente cliccando sotto la voce trading bot sarà possibile effettuare appunto come detto del trading automatizzato chi usa la modalità backtested 7 day ossia praticamente ripercorre gli ultimi sette giorni di investimento e su questo basa la strategia naturalmente in questo caso qui c'è la sotto la voce auto appunto quindi viene fatto tutto in maniera automatizzata qui mette questo 25.5 per cento ma questo è semplicemente i sette giorni precedenti quindi non è detto assolutamente che quello che è successo nei sette giorni precedenti si ripeterà anche nei successivi ma ad ogni modo in questo in questa modalità con auto è possibile semplicemente depositando usdt effettuare l'operazione di trading sulla cripto valuta e il tutto in maniera automatizzata piuttosto che per le persone un po più esperte sarà possibile in maniera manuale inserire i dati del bot qui ci sono anche delle funzioni avanzate con il quale è possibile configurare al meglio la propria strategia la cosa più carina che ho trovato di questo bot è che è assolutamente gratuito quindi tralasciando il discorso delle fiche naturalmente vengono pagate non c'è un canone mensile piuttosto che per l'attivazione di questo bot ma è già incluso tutto nell'account naturalmente sotto la sezione finance troviamo diverse funzioni quindi come lo staking come learn come il launch ossia prendere cripto valuta in prestito per quanto riguarda il deposito è possibile farlo in maniera molto semplice quindi con carta di credito chiaramente ci sono alcune fi piuttosto che completamente gratuito in euro tramite il deposito sepa naturalmente richiede la verifica quindi dopo essersi verificati sarà possibile depositare i propri euro tramite bonifico sepa una volta arrivati i propri fondi cliccando su convert sarà possibile convertire i propri euro in altra cripto valuta il usdt ad esempio per poter effettuare tutte le operazioni all'interno di questo exchange se non si volesse acquistare della cripto valuta con gli euro perché magari già si possiede ma si volesse semplicemente spostare degli usdt per effettuare tutte le versioni su questo exchange sotto la voce exchange e sotto la voce deposit trovando usdt cliccheremo su deposit a questo punto sarà possibile quindi spostare usdt da un altro exchange verso lobby le selezioni sono ad esempio come arc 20 piuttosto che gli usdt sulla eco chain ma forse quello più utilizzato e quello a meno fi in questo momento è il trc 20 ossia il network di tron quindi sarà possibile depositare usdt sotto trc 20 naturalmente anche il vostro exchange piuttosto che wallet di partenza deve essere compatibile trc 20 binance ad esempio di permette di fare il prelievo su trc 20 quindi in modo molto agevole è facile spostare i fondi da binance piuttosto che da altri exchange ormai quasi tutti lo supportano su quest'altro a sotto in descrizione ti lascio il referra link con il quale avrai un 20 per cento di sconto sulle fii per sempre e oltre a quello avrai anche 170 dollari di welcome bonus questo welcome bonus viene dato al raggiungimento determinati task come ad esempio non so completare l'id verification ti danno 10 dollari fare la prima transazione con usdt danno altri 10 dollari questi dollari sono dati in card in point card ossia si avranno questi dollari che i quali serviranno come sconto sulle fii quindi già le fii su questo exchange sono molto basse oltre al 20 per cento di sconto ci sono anche questi dollari quindi per effettuare le operazioni se andiamo sotto la voce derivati sarà possibile effettuare delle operazioni a leva piuttosto che su dei future piuttosto che su dei perpetua tutto quello che stai vedendo adesso è in inglese ma in maniera molto semplice andando su questo mondino in alto a destra si può scorrere fino a trovare l'italiano cliccando su italiano l'exchange diventerà completamente in italiano per quanto riguarda le potenzialità del token di wabi in questo momento c'è un circolante di 164 milioni di token a fronte di un rifornimento massimo di 500 milioni ma questo dato è in esatto in quanto c'è stato un bar c'è un bar periodico mensile su questo token che sta portando in maniera molto rapida questo rifornimento massimo da 500 milioni ad abbassarsi quindi in questo momento è deflazionario in questo momento orientativamente la supply massima anziché essere di 500 milioni è di 300 ma sarà destinata ancora a scendere lasciando un attimo il discorso di circolante e di supply massima facciamo un paragone con il token di bnb il token di wabi in questo momento si trova all'ottantacinquesimo posto su coinmarketcap con una capitalizzazione di un miliardo e cento per quanto riguarda il bnb si trova al terzo posto su coinmarketcap e ha una capitalizzazione di mercato di circa 72 miliardi parliamo di circa 70 volte il valore dell'uobi token tornando su questa pagina di coinmarketcap nella quale vediamo il volume dei scambi nelle ultime 24 ore vediamo che binance sta al primo posto con circa 24 miliardi di dollari di scambio nelle ultime 24 ore mentre wabi al settimo posto con un volume di poco superiore ai 4 miliardi quindi questo significa che su binance avvengono sei volte le transazioni che avvengono su wabi all'incirca al giorno analizzando questo dato però vediamo che la marketcap di bnb non è all'incirca sei o sette volte superiore rispetto a quella di wabi ma ben 70 volte quindi vediamo che è un numero spropositato ora questo può significare che forse il bnb è sopravvalutato oppure forse che il token di wabi sia di gran lunga sottovalutato se teniamo poi in considerazione che binance potrebbe perdere dei clienti inoltre moltissime persone nuove entreranno in questo settore quindi in futuro potremmo vedere diverse persone magari migrare verso altri exchange piuttosto che i nuovi arrivati utilizzare un altro exchange rispetto a binance come exchange principale ma ad ogni modo se sta in questo settore da diverso tempo naturalmente so di per certo che avrai tantissime exchange perché ognuno ha la sua particolarità wabi sta lavorando bene e l'ecosistema di eco chain sta nascendo e sta nascendo fiorente questo mi fa pensare che probabilmente anche il token di wabi potrebbe essere un valido investimento per il futuro naturalmente nessuno prevede il futuro ma ci sono tutti i presupposti per un futuro rosio da parte di wabi prima di terminare questo video tengo a dirti inoltre che c'è una chat di telegram in italiano proprio per i clienti di wabi lascio qua sotto in descrizione oltre che naturalmente il referral link per avere appunto questo 20 per cento di sconto sulle fee e poter avere questo bonus su questi task per il resto noi ci vediamo al prossimo video un bel like se ti è piaciuto ciao dal marchese del crypto